Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Dalilu ed oggi parleremo del profilo log. Visto che mi avete chiesto più e più volte come è possibile riuscire a post produrre bene il log, perché quando facciamo delle riprese del log vediamo parecchio rumore, con questo video cercherò di rispondere un po' a quello che mi chiedete più spesso e cercherò di far tutto nei modi più semplici possibili, quindi non andrò molto sul tecnico e sullo scientifico quanto più sul pratico, perché poi come sapete quello che interessa a me è più saper fare una cosa piuttosto che sapere scientificamente come funziona. Ovviamente sapere anche il discorso scientifico è una cosa in più, però comunque non è necessario e indispensabile al fine del saper utilizzare bene questa determinata funzione. È comunque un video che può essere esteso a tutti quanti i tipi di profili log di qualsiasi tipo di camera, però nello specifico io andrò a soffermarmi sull'S Log della Sony e il V-Log della Panasonic. Intanto quando noi andiamo ad utilizzare il profilo log abbiamo un'immagine che è completamente piatta, possiamo anche chiamarla flat, ed è un'immagine che ha poco contrasto e poca saturazione, ma è un'immagine con tantissime informazioni, tantissime informazioni sul discorso luce, questo perché un'immagine in log tende a schiarire le zone in ombra e a scurire le zone illuminate. E proprio per il discorso che abbiamo tantissime informazioni, quando andiamo a lavorare in post-produzione possiamo andare a modificare così tanto il nostro file, senza andare a rovinarlo del tutto, a far uscire degli artefatti, così che possiamo andare a sfruttare al massimo quello che effettivamente il log ci permette di fare. Per il discorso di ripresa, quando si tende a reccare un'immagine con il profilo log, quello che si consiglia di fare è utilizzare una tecnica che si chiama esporre a destra, sovraesporre la nostra ripresa fino al limite del clipping, quindi fino a che le nostre luci riescano a percepire delle informazioni. Il valore che si consiglia di utilizzare è di rimanere tra il più 1 e 7 e il più 2 di sovraesposizione, così che la nostra camera riesca comunque a percepire tutte quante le informazioni necessarie affinché poi in post-produzione riusciamo comunque a lavorare senza perdere alcune informazioni. Salta fuori la domanda che molto spesso mi fate, perché quando giro con l'S-Log 2 della Sony per esempio vedo molto rumore? Semplicemente perché appunto il nostro profilo log tende ad avere le ombre molto aperte, quindi i neri molto alzati, per riuscire ad avere più informazioni per quanto riguarda le luci. Ma è un rumore che possiamo chiamare anche finto, perché nel momento in cui poi noi andiamo a post-produrre quella ripresa, con quel determinato rumore del profilo log, quel rumore lo andiamo a perdere. E adesso vi spiego come è possibile questa cosa. Quello che vi consiglio di fare, che poi è quello che faccio io, è di riportare, una volta che noi abbiamo la nostra ripresa in log, riportare la ripresa ai colori naturali. E questo si può fare utilizzando una LUT che si chiama REC709, che non è altro che una LUT che ci riporta appunto i colori allo standard visivo. Ed una volta che abbiamo applicato questa LUT, possiamo andare poi a fare il grading per dare quel mood particolare alla nostra ripresa. Una cosa che però dovete considerare è che questa LUT REC709 è pensata, specifica per quella determinata camera e quel profilo colore. Quindi c'è la REC709 per l'S-Log 2, la REC709 per l'S-Log 3, la LUT 709 per il V-Log della Panasonic e così via. Quindi quando dovete andare a applicare questa 709, dovete stare attenti che state applicando la LUT pensata per quel log specifico che state utilizzando. In descrizione vi lascio il link alle due LUT specifiche 709 che utilizzo per l'S-Log 2 della Sony e il V-Log della Panasonic. Mi raccomando non andate a confondere il profilo log dal profilo flat simulato, perché appunto il profilo flat simulato è un profilo standard, in cui viene modificata saturazione e contrasto per rendere un po' la ripresa flat, ma quel profilo flat simulato non potrà mai contenere tutte quante le informazioni che può contenere un profilo log, perché ovviamente il log è un profilo logaritmico, quindi se volete poi andare a capire effettivamente come funziona il suo discorso del profilo logaritmico, vi lascio un link in descrizione di un articolo, così la parte scientifica ve la vedete con tutta la calma che volete. Per farvi capire meglio questa cosa, vi lascio anche in descrizione il link di queste due riprese che state vedendo, che sono queste due riprese girate con la mia 6300, però la prima clip è girata con l'S-Log 2 e la seconda è girata con il flat simulato. Se andate a fare un test di post-produzione, poi vi rendete effettivamente conto che utilizzare un log piuttosto che un flat simulato è tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto, in descrizione trovate il link a tutti quanti i miei social dove potete scrivermi, seguirmi, contattarmi e farmi tutte quante le domande che volete nel rente ai prossimi video che realizzerò. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così potete rimanere aggiornati su tutti quanti i prossimi video che caricherò. Lasciate un bel mi piace, commentate e condividete il video così mi aiutate pian piano a far crescere questo canale. E come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo questo venerdì alle 14.30 con un nuovo video sempre qui su YouTube con me, Dali Ludi. Ciao! Ciao!